Ehi allioppa, ehi allioppa, ciao miei splendidi cannellbullar, come state? Bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video ASMR Allora, oggi siamo qui per chiacchierare sui preferiti del mese di gennaio 2024 Primo mese dell'anno, com'è andata, cosa è successo, quali sono state le cose belle preferite Questo video vi ricordo come sempre essere in collaborazione con quattro meravigliose donne Milania, Paola, Manuela e Silvia Vi lascio tutto in descrizione ai loro canali, andate a sbirciare anche i loro video Io porto questa modalità in ASMR, come lo sapete E anche Silvia, quindi vi segnalo questo Ma sono sicura che ormai siete più preparati di me Allora, preferiti del mese, partiamo a bomba E vediamo un po' Dunque film, serie tv preferita del mese Lo sapete, io di solito porto un film e una serie Per quanto riguarda il film, voglio segnalarvi una nuova uscita Netflix, che mi ha fatto vedere Daniele Proprio, era uscito da pochissimi giorni Bellissimo Il film in questione si chiama, si intitola La società della neve È un film drammatico perché racconta proprio la drammatica storia di un disastro aereo Avvenuto più o meno negli anni 70 in Sud America Questo aereo che parte dall'Uruguay per arrivare in Cile Con sopra, tra i vari passeggeri, anche questa squadra di rugby Che appunto doveva andare in Cile Cosa succede? L'aereo precipita proprio sulle Ande Quindi appunto fate conto che è successo ottobre Contando che le stagioni sono invertite per loro Stava quasi finendo l'inverno Questo aereo quando precipita purtroppo ovviamente ci sono già dei deceduti Ma altre persone sono ancora vive Rimarranno per quasi due mesi Un mese e mezzo se non mi sbaglio E si ingegnano in tutti i modi per cercare di sopravvivere Alle temperature, alla fame Alcuni si sono fatti male Insomma È veramente un film meraviglioso Purtroppo in realtà parla di una tragedia Però Fa vedere proprio come la forza L'istinto di sopravvivenza Ti porta poi a Ingegnarti a fare delle cose quasi sovraumane Per poter salvare la pelle La società della neve Ripeto questo è il titolo del film Meraviglioso Ve lo consiglio tanto Quindi questo è il mio film del mese Serie televisiva Dunque io sono arrivata un po' tardi Con questa serie televisiva Originale Amazon Prime Video Che io ho guardato in queste settimane Ho terminato ieri per me Che sto registrando E sto parlando di Daisy Jones in The Six Una serie televisiva che racconta La storia di questa band The Six Daisy Jones per l'appunto Che si unisce a un certo punto Con questa artista che vuole emergere Che è straordinariamente talentosa Ma anche tremendamente tormentata Daisy Jones per l'appunto A un certo punto loro arriveranno all'apice del loro successo Ma poi misteriosamente dopo un concerto strepitoso Loro non suoneranno mai più La serie inizia nel presente Quindi si sta girando un documentario Dopo tantissimi anni per la prima volta Su questa band E quindi c'è questo salto temporale costante Tra presente e passato Ma è molto più il passato Quindi ogni tanto ci sono questi sprazzi del presente Quindi nel documentario Gli artisti vengono intervistati E si capirà poi che cosa è successo È meravigliosa Io vi dico questo Vi dico la verità Solo dieci episodi I primi sette Ero Bah Non lo so Ero quasi lì per lasciarla Perché mi annoiava Tremendamente E poi gli ultimi Dall'ottavo episodio Poi il nono e il decimo Meravigliosi È incredibile perché questa band Non è mai esistita in realtà È tutto fiction Ma ti mette quasi il dubbio Che sia reale Bella Ve la consiglio tanto Molto toccante Sì Ve la consiglio Poi Prodotto make up Preferito del mese Indubbiamente Questo rossettino Regalo di compleanno Ve lo avevo già fatto vedere La volta scorsa Lo indossavo In realtà no Perché voi vedrete il video È perché io ho girato Un get ready With me Mentre preparo questo trucco E Lo vedrete dopo Questo video qua Quindi poi Ve ne parlerò anche lì Un regalo di compleanno Super apprezzato Quindi Questo è il mio prodotto Preferito del mese Prano musicale Allora Voi sapete che io Ogni tanto Sfio Però Io questa volta Devo Se mi seguite su Instagram Già sapete Perché ve lo ho già consigliato Allora Per caso Mi sono Trovata Ascoltare Un Proprio Un estrapolato Di questa Intervista Su TikTok Ogni tanto Passano Questi video E io ho detto Ok Devo ascoltarla Per Cioè Tutta la Tutta l'intervista E quindi Anzi che consigliarvi una canzone Voglio consigliarvi La puntata di un podcast Che in realtà è molto famoso E apprezzato Che si chiama One more time Podcast Di Luca Casadei Una persona Una bella persona Molto Molto In damba Lui Intervista Ad ogni episodio Un personaggio Noto E fa raccontare La loro storia Che generalmente È una storia Di riscatto Di rivincita Di Io ce l'ho fatta Nonostante Queste 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 Difficoltà E Io avevo sentito Appunto Questo Pezzettino Di intervista Con Gianluca Gotto Un ragazzo Meraviglioso Uno scrittore Che racconta Tanto Di spiritualità Di buddismo Di Crescita personale È una persona Estremamente Sensibile Intelligente Profonda E ascoltare Quella puntata È stato Catartico Per me Mi ha Mi ha Commossa Mi ha Toccato Tantissimo Proprio Nel profondo Se non siete Se non siete Pronti A questo Non l'ascoltate Perché Magari Potrebbe Non lo so Non lo so In realtà Io penso Che Se la si ascolta Nel momento Giusto Potrebbe Essere Il click Per Per Riprendersi in mano La propria vita Se è ciò Di cui avete Bisogno Se siete A un punto Di stallo Se siete Persi Ascoltatela Se invece Magari Per fare i motivi Non siete Pronti A guardarvi Dentro Se magari State Lavorando Diversamente Magari Aspettate Segnate Ma aspettate Vi segnalo Che la puntata È disponibile Su spotify La parte audio Ma anche Gratuitamente Su youtube C'è Proprio La versione Integrale Anche Video Ve la lascio In descrizione Per me È stato Illuminante E vorrei Iniziare a leggere I libri Di Gianluca Perché sono Molto Molto Curiosa E so Che sono Molto Apprezzati Sentire La sua Storia Mi ha Fatto Molto Bene Quindi Vi voglio Segnalare Questo Anziché Una Canzone Perché è stato L'ascolto Più Importante Del mese Poi Prodotto Per la cura Del corpo Del mese Allora Questo mese Ho cambiato Il mio Detergente Viso Io uso De Ordinary Ho fatto Una piccola Parentesi Con Feralab Non mi sono Trovata bene Penso che Per la mia Pelle Non vadano Bene Quei prodotti Sono tornata Al mio Detergente Affidato Però Non lo so È impossibile Trovarlo Ultimamente Ideo Ordinaria Ha lanciato Questo Ho chiesto La commessa Mi ha detto Che comunque Simile Nel senso Più che simile Ugualmente Valido Gentile Sulla La pelle Effettivamente Mi sto Trovando Bene Mi lascia La pelle Super Morbida Io Prima usavo Squalene Squalene Cleanser Credo che si Dica così Ma lo Squalene E Mi trovavo Benissimo Questo qua Ha una Consistenza Un po' Più Cellusa Infatti Anche Trasparente Quell'altro Era Bianco Però Vi dico Per ora Io mi sto Trovando Bene Il prezzo È più o meno Uguale A quello A quell'altro Quindi Direi Questo Una bella Novità Poi Punto Cinque Libro Fumetto Graphic Novel Preferita Del mese Dunque Ne ho due Da segnalarvi Perché Ho Scoperto Il meraviglioso Mondo Degli Audiolibri Mi si è proprio Aperto Un mondo E Ho Ascoltato Tutto Orgoglio E Pregiudizio Letto Dalla Straordinaria Paola Cortellesi Che ha fatto Un lavoro Magistrale È stata Bravissima E poi Il libro Lo voglio Comprare Anche proprio Il libro Io avevo Letto La versione Facilitata In inglese E mi era Piaciuto Tanto Però è Proprio Un libricino Piccolo Poi l'ho Ascoltato Ma vorrei Anche Comprare Il libro In italiano Magari Una bella Edizione Con una copertina Particolarmente Bella Che mi Acchiappi Ma stupendo È stato uno dei libri Più belli Che io abbia Di cui io abbia Fruito Non posso dire letto Perché non l'ho letto Però Stupendo In concomitanza Sto rileggendo Twilight Sapete Vi avevo detto Che avrei voluto Rileggere La Sada Per ora Ho letto Cinque capitoli E Stupendo Come sempre Quindi Non mi soffermo Oltre Perché sapete Vi ho già parlato Ampiamente Del mio amore Per Twilight Avevo proprio Voglia Di rileggere Il libro Poi Cibo O preparazione Culinaria Preferito Del mese Allora Voglio farvi vedere Una cosa Tanto semplice Quanto Effettivamente Preferita Perché È la mia cosa Preferita Ma In realtà Non solo Di questo mese C'è La vita Per me E sto parlando Della pasta Di ceci Quindi Questa Non è pasta Di grano Ma è pasta Di legumi Nello specifico Ceci C'è 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 io mi faccio il 95% delle volte coi broccoli ed è il mio comfort food della vita proprio adoro ne consumo veramente tanta peccato che costa veramente tantissimo quindi insomma però pazienza mi piace e mi fa bene quindi va bene così non so perché non ve l'ho fatta vedere prima perché in realtà cioè sono è una delle cose che mangio più spesso e ve la consiglio questa combo pasta di ceci o anche lenticchie e broccoli adoro me la vorrei fare oggi perché devo ancora pranzare ma non ho i broccoli, li ho finiti e comunque sì questo è il mio cibo adoro, adoro, semplice ma meraviglioso poi il punto 7 è il capo d'abbigliamento preferito del mese che vorrei farvi vedere ma è troppo sporco non posso non voglio sporcarmi sono delle scarpe vi metto magari una foto sono delle scarpe che ho comprato il mese scorso è stato diciamo al regalo che mi sono fatta da sola per Natale e compleanno perché le ho pagate un sacco ma avevo bisogno di comprarmi delle scarpe invernali perché qua vi giuro che sta facendo tanta di quella neve c'è tanto di quel freddo che avevo proprio bisogno di comprarmi delle scarpe resistenti perché gli anfibi che avevo erano tutti rotti e mi entrava l'acqua mi bagnavano cioè mi si bagnavano i piedi quindi ho fatto un po' di ricerca volevo comprare le Dr. Martens vegane ma le ho provate erano tremendamente dure scomode alla fine ho optato per queste scarpe di cui sono super contenta perché si sono rivelate meravigliose dopo un inizio un po' turbolento e sono delle Buffalo ovviamente ho comprato la versione 100% vegana le ho trovate nel negozio delle Dr. Martens appunto avevano le Dr. Martens vegane e anche le Buffalo sono un po' particolari sono belle grandi imponenti ma per questo tempo avevo proprio bisogno di carri armati ai piedi e all'inizio dico inizio turbolento perché all'inizio mi erano un po' scomodi non tanto nella pianta perché hanno una bella suola morbida tipo memory foam ma sì mi è super comoda era una cosa che mi aveva colpito ma ai lati nelle caviglie mi facevano un po' male perché sono un po' alte non tanto quanto degli anfibi ma più di scarpe normali e quindi mi sono detto mannaggia ho speso tutti questi soldi per queste scarpe ma proprio perché avevo speso tutti quei soldi io le mettevo le ho messe le ho messe alla fine si sono ammorbidite ora sono super comode sono contentissima le mette una volta le ho pagate un po' perché le ho pagate in euro sui 120 però ovviamente le ho comprate con l'obiettivo di tenerle a lungo e quindi sono contentissima perché mi tengo nei piedi nel caldo asciutti se anche vado in 10 cm di neve non c'è problema sono pelle resistenti ma sono sporchissime perché non vi dico in mezzo alla poltiglia in cui sono stata quindi vi metto una foto scusatemi se sono un po' indecenti ho provato a pulirli ogni tanto però però si stupende ve le consiglio se avete bisogno di scarpe invernali non in pelle poi passiamo al commento ai video allora in realtà scorrendo i commenti sotto il mio video precedente sono super contenta perché un sacco di voi mi hanno dato feedback sulla luminosità dei miei video grazie mille so che al 90% di voi non crea problemi poi ci sono stati un paio di commenti che mi hanno detto sì siamo effettivamente se fosse un po' meno luminoso sarebbe meglio e adesso vediamo vediamo un po' cosa riesco a fare oggi ad esempio non ho le luci accese le lucine perché la giornata nonostante non sembri è parecchio da scura cupa e quando è così quando la stanza non è ben illuminata in video le lucine mi lampeggiano praticamente ed è scratevolissimo ho dovuto buttare due video roleplay tra l'altro che avevo girato per questo motivo per cui ora starò attenta quando la giornata non è luminosa non le accendo non voglio rischiare di buttare e gestinare i video però una ragazza mi ha scritto un commento che ora vi lascio è stata troppo carina sotto un video vecchissimo che avevo girato con Sara era un massaggio alla testa che facevo al collo e mi ha scritto ti prego rifai questi video questo avevo fatto tipo rimozione dei pensieri faccio proprio un video sopra e vorrei vorrei tantissimo il fatto è che Daniele era il mio soggetto quello che mi aiutava a fare questi video a due ma ora i nostri turni di lavoro sono assolutamente opposti quindi quando lui è a casa io lavoro e viceversa per cui sto pensando scusate il mio stomaco ha brontolato non so se l'avete sentito ma è ora di pranzo e ho fame ma siamo addirittura ad arrivo stavo dicendo sto pensando di chiedere magari fare un post su Instagram e chiedere ai miei amici colleghi qui che vivono qua stoccolma se uno di loro vuole prestarsi a farmi da soggetto il fatto che io vivo lontano dalla città e non so bisogna vedere se hanno voglia se qualcuno voglia di venire fino a qua per farsi fare un massaggio io lo farei a parte invertite però chissà c'è chi magari non vuole spostarsi molto adesso vediamo però vi prometto che cercherò di portare altri video così perché so che mi piacciono poi miei cari accessorio preferito del mese allora è una cosa super semplice ma che ho adorato e vi ho fatto vedere nel video scorso quello dell'Hall Ikea e sto parlando del mio copre candela zucchero che in realtà adoro non tanto per la sua funzione quanto per il design perché guardate che bello cioè quando io non uso la candela anziché lasciarla sul tavolo così è così e mi crea questo effetto non lo so è super elegante adoro è proprio un oggetto di arritamento mi piace un sacco sono felicissima di averlo comprato ve lo consiglio se vi serve una cosa e ovviamente poi c'è anche la la funzione quindi la cannella non si impolvera quindi super apprezzato poi cronache dal nord e cronache dal sud fatti o riflessioni delle mese dal profondo nord e dal profondo sud allora nel prossimo video quindi il get ready with me che ho girato e che uscirà settimana prossima vi racconterò molto più in dettaglio del lavoro dei progetti del come sta andando la vita qui quello che vi posso dire è che il mio anno si è concluso in maniera molto tranquilla siamo stati iutaniere tranquilli a casa ed era proprio ciò che volevo volevo di cui avevo bisogno il 2024 ho iniziato in maniera molto serena molto tranquilla mi si sta creando la mia bella routine sono sono soddisfatta della mia vita al contempo sto portando avanti il mio lavoro di terapia psicologica con il mio psicologo che sta dando i suoi frutti alla grande ma che allo stesso tempo è a volte estremamente doloroso quindi io sento che questo mese ma questo anno in generale sarà un anno di profonda crescita personale lavoro interiore consapevolezza maturità questo porta con sé poi a lungo termine benefici scusate il mio stomaco prontola ma non voglio interrompermi ma allo stesso tempo sacrifici ecco sacrifici per benefici se siete in terapia lo sapete quanto sia difficile ma quanto sia estremamente poi utile no e quindi qui dal profondo nord dalla mia casetta nei boschi questo è quello che succede nel senso che sarà un periodo di di lavoro su se stessi su me stessa nello specifico poi a livello pratico di cose successe non ce ne sono state molte gennaio secondo me è proprio un mese di in cui si riparte no si ingrana e piano piano si inizia a partire per cui si mi sento di dirvi questo per questo punto fatemi sapere voi se volete quali sono stati i vostri preferiti quali sono i vostri obiettivi non lo so mi interessa molto interfacciarmi con voi per oggi è tutto io vi ringrazio per essere state qui con me ora vado a mangiare che ho fame e ci vediamo presto canelbullar vi voglio tantissimo bene ehi tu ora